Senza la tecnica costruttiva, in particolare senza l'opus cementitium degli antichi romani, non avremmo né il Pantheon, né il Colosseo, né le Terme di Caracalla. E qui a Pompei possiamo capire in diretta come funzionava un cantiere antico. Vediamo le tegole accattastate, i mattoni, gli attrezzi lasciati qui, i conteggi sui muri con carboncino, probabilmente relativi allo stesso cantiere. Poi interviene l'eruzione del Vesuvio e tutto si ferma. E possiamo capire in particolare come costruivano i muri, probabilmente, e questo è il risultato di una collaborazione con l'MIT di Massachusetts, con la calce viva, dunque ancora non mescolata con l'acqua, viene messa in opera insieme agli altri inerti, il materiale di costruzione, diventa molto caldo nel momento in cui si mescola con l'acqua e questo consente di costruire in pochissimo tempo un muro. E questo ci spiega poi perché sono riusciti a costruire questi grandi anfiteatri, acquedotti, altre opere che vediamo in tutto il Mediterraneo antico. Dunque, la piccola città di Pompei ci aiuta a capire il grande impero romano.